La fusione con un'altra banca, forse con il gruppo Unicredit, sembra questo il destino di Banca Carige dopo il commissariamento disposto dalla BCE e la Banca Centrale Europea. Un commissariamento attuato lasciando di fatto al vertice della Banca Ligure gli apici del precedente Consiglio di Amministrazione, aspetto che molti esperti leggono come un segnale inviato dalla BCE agli azionisti e in particolare alla famiglia Malacalza che nell'ultima assemblea aveva stoppato l'aumento di capitale dopo aver investito oltre 400 milioni di euro in Carige a partire dal 2015. Valla pena inoltre ricordare che si tratta del primo caso di commissariamento in Italia attuato dalla BCE. Pietro Modiano, primo amministratore e oggi commissario, ha parlato di continuità amministrativa nella direzione della predisposizione del piano industriale e dell'aggregazione con un altro istituto di credito e l'attesa ora è proprio per il piano che i commissari dovranno presentare alla Banca Centrale Europea. Nel frattempo, dal fronte politico, i gruppi consigliari del PD della Regione e del Comune di Genova in una nota hanno auspicato un'audizione urgente in Commissione Finanze del Ministro Tria e dei vertici di Consobe e Abi, come già chiesto dai parlamentari del PD, proprio per approfondire la questione Carige e trovare soluzioni per i risparmiatori e i dipendenti della Banca Ligure.